Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, in A1 rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico in direzione Bologna, un impianto distribuzione carburante chiuso nell'area di servizio di Badia Alpino in direzione Firenze per un guasto, un raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Monte Rigioni e Siena in direzione Siena, sulla statale 3 bis Tiberina, scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra l'incrocio di Madonnuccia-Poggiolino e quello di Pieve Santo Stefano Sud, gli aerei, il volo Firenze-Parigi delle 11.05 decollerà alle 12. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. E con questo è tutto, vi auguriamo un buon viaggio!